L'errore ha compimento in cellulite il numero del 2017 della UG di Ladins. Questo numero ci incanta se ha un qualche pensiero del novizio con Bonian Stefano Trevisan sul tempo di Nadel. Da conto è l'attualità con la soddisfazione di De Tomas per la neva che reverda la ciasa di pausa di fascia. Da son conto della scontreda di informazione indrezzata dal Comune Generale insieme a Carabiniere e Sepolins. E fa zona saier che su un TML ai 23 di Dezember taca la neva sitcom Ladina. Resonando amministrazione politica della piatta di fascia con l'urier per il Nef Comune Ruabelle che ha compimento. E con l'assemblea del Movimento Politico Ladin stata in stadi. Con il concorso del retrato Grazie a tutti. Per un'atleta leccesa e secondo il Gioin Liberatore. Gioin in hand con la neve dall'occhi. E il riconoscimento per il settore di Gioin. Fianion con i risultati del bal sui feri. E del schialpinismo. Sulla Uggiladinsa ogni vendere potete trovare la neve da tutta la ladinia. Per info e abbonamenti potete viaggere alla redazione di fascia sul Stradona St. Jean. Telefon 0472 7474545 Mail fascia.laus.it In occasione del Nadal la redazione Gioin sport c'ha ducsi lettores i più biai augures. La Uggiladinsa sarà da neve alla letta ai 5 de gennaio del 2018. Grazie a tutti.